e ciao a tutti e benvenuti in questo primo aggiornamento del canale rodi in questo video vi parlerò un po delle ultime novità nuove serie e in generale cose che ho fatto per la community in questo ultimo periodo partiamo subito da una novità che molti di voi dovrebbero aver già visto perché questo video dovrebbe uscire dopo ha iniziato una nuova serie chiamata città in mostra questa nuova serie semplicemente andrà ad esplorare città fatte da voi che mi avete inviato link al forum per inviare le vostre città in descrizione e andrò a mostrare le città migliori quindi non andrò a mostrare tutte quelle che mi arriveranno ma soltanto le più belle le più realistiche le più uniche le più speciali eccetera di conseguenza ci sarà anche un'altra nuova serie che partirà e che per il momento deve ancora iniziare perché non ho ancora ricevuto città del genere e sarà city fix una serie dove andremo a sistemare o il traffico di una città o eventuali problemi di zoning o gestione budget o altre cose insomma una città che non funziona andremo a capire perché e risolverlo di nuovo città inviate da voi link in descrizione per il forum per inviare le città quindi se avete una città che volete vedere sistemata o una città che ha problemi di traffico o avete fatto una città fantastica bellissima e volete mostrarla inviatemele e è tutto gratuito ovviamente no non chiedo niente anzi dovrete inserire alcuni dati tra cui se avete usato mod o no il salvataggio della città e l'eventuale mappa nel caso ne abbiate usata una custom il vostro nickname eccetera e poi se sarà una città che ne vale la pena la vedrete in un video spero che queste nuove serie vi piacciono e spero di vedere tante città in futuro tanti salvataggi in quel forum detto ciò terza cosa per oggi finalmente me l'avete richiesto ormai per gli ultimi due mesi ci è voluto un po ma è pronto il discord ufficiale di questa community anche questo sarà nella descrizione di ogni video ci sarà link d'invito e nel discord ufficiale potremmo potrete entrare tranquillamente non ci sono requisiti né altro e avrete un po di canali in cui discutere principalmente di CD Scalance 1 e CD Scalance 2 dei video nel caso abbiate dei suggerimenti o cose del genere avrete anche la possibilità di chiedere aiuto nel caso abbiate bisogno con una partita in CD Scalance 1 o CD Scalance 2 non importa e qualche membro della community cercherà di aiutarvi si spera e c'è anche una sezione suggerimenti in cui potete utilizzare un bot apposito per andare a creare suggerimenti che siano per il server o per questo canale youtube quindi magari video da fare o cose del genere in questo modo riuscirò a raccogliere un po le vostre idee le vostre opinioni e metterle tutte insieme inoltre eventuali annunci aggiornamenti eccetera saranno presenti anche nel server oltre che alla scheda community su youtube per cui se siete interessati anche con quelle cose ad esempio perché la serie The Media non la state vedendo ultimamente entrate nel server e quegli annunci li avrete praticamente al momento in cui succede qualcosa detto ciò ultima cosa di oggi perché The Media non la state vedendo perché le mod che ho utilizzato su The Media non si sono aggiornate tutte alcuni di voi diranno beh al momento non ci sono quelle gran mod che non le puoi togliere dal salvataggio gioca senza quelle mod e fine le altre andranno bene peccato che le mod che al momento non funzionano siano quelle fondamentali della serie al momento le mod che non funzionano sono tre mod dello stesso autore che vanno a gestire il valore del terreno il traffico e poi un'altra mod scusate che non è dello stesso autore che va a gestire il comportamento dei cittadini quando fanno figli quando si cercano un lavoro eccetera questi sono tre aspetti fondamentali e principalmente una delle ragioni per cui quella serie è muddata perché voglio avere queste funzioni e non c'è alternativa devo aspettare che si aggiornino se poi tra due tre settimane non si saranno aggiornate allora in quel caso si spera che ci saranno mod alternative o saremo costretti a continuare senza ma fino ad allora visto che ripeto la maggior parte di questi mod sono dello stesso autore gli do il beneficio del dubbio e aspetto di vedere che si aggiornino in più per il valore del terreno qualcuno di voi potrebbe dirmi ma guarda che ci sono due mod diverse per il valore del terreno se una non va usa l'altra ecco se avete seguito la serie di media vi sarete accorti che prima avevo una mod per il valore del terreno che mi pare si chiamasse land value overhaul e l'abbiamo tolta perché addirittura peggiora le cose invece che migliorarle e abbiamo messo questa nuova mod la nuova mod ripeto non è stata aggiornata con l'ultimo update del gioco per cui speriamo venga aggiornata presto l'unica cosa che posso dire o che arrivi un'altra mod o che quella che non funzionava venga fatta funzionare meglio diciamo detto ciò questo era tutto quello che avevo per voi con questo aggiornamento 1.5 chiamiamolo di rodi e grazie a tutti grazie per i 2200 e passa iscritti ci vediamo nel prossimo video